Musica Benvenuti ragazzi e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Siamo qui oggi con un nuovo Last Team Standing Rocket vs Insurgent versione 2. qualcosa Ora non mi ricordo un cazzo No, su No ragazzi, subito fail Subito Si parte benissimo col primo episodio Ragazzi, subito il primo fail Quindi mettete già un bel like per questo fail immediato che ho fatto Non so se avete visto ragazzi cosa è successo lì Ok ragazzi, il primo round è stato perdente Vediamo cosa succede nel secondo round Eccoci qui giunti ragazzi al secondo round Spero di fare meglio del primo Anche se non sarà difficile fare meglio del primo Visto il fail immediato E andiamo subito noi ora a dover distruggere loro con Insurgent Quindi per ora, 1 a 0 per ora Andiamo subito via Attenzione Ecco l'ho là il bastardo No, non ci sono arrivato di pochissimo Là c'è una strada alternativa che dopo andrò a provare Se ne avrò l'opportunità Oh, attenzione Eh, attenzione Uh, brutto bastardo Mi hanno colpito ragazzi Ma non mi hanno distrutto Però devo andarmene Subito No, ma che cazzo fai Eh, sorri un cazzo Andiamo Uh Andiamo, andiamo Di prepotenza ragazzi Di cattiveria Vediamo se riusciamo questa volta Eccolo lì Eccolo lì Brutto bastardo Non ce l'ho fatta di pochissimo Andiamocene da qui ragazzi Andiamocene Proviamo di nuovo questa strada Sperando che Non veniamo colpiti Mentre stiamo salendo Attenzione Eccoci qui Ok ragazzi Possiamo prendere una buona rincorsa Eccolo qua Eccolo Qua Subito Dai Eh, lo distrugge Lo distrugge ragazzi Round vinto Fa l'uccisione finale Mi sono vendicato di prima Round vincitore Uno pari Ci vediamo subito Col terzo round ragazzi Ok ragazzi Eccoci tornati qui Col terzo round Spero insomma Di fare un po' meglio di prima E non fare fail Ricordo che siamo Uno pari Quindi ora Palla al centro Vi ricordo che vince Chi arriva prima a quattro E io direi Di andarci subito Qua sopra Attenzione No, 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 no Mamma mia ragazzi Me la sono vista Brutta Ecco qua Vediamo No, 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 no i razzi guardate quel bastardo che aveva cercato di prendermi no 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 mamma mia ragazzi mi sa che siamo rimasti soltanto in due e loro sono ancora in molti ragazzi mamma mia me la sono vista bruttissima ecco qua beccato andiamo subito ragazzi dobbiamo scappare non dobbiamo farci colpire eccolo lì un bastardo eccolo lì un basta ecco anzi ecco qui due bastardi ecco qui due bastardi ragazzi che cazzo ha fatto quello si è suicidato cioè sono rimasto da solo via 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 no lasciate subito un like per me solo contro tutti non mi avrete mai brutti bastardi no akab ragazzi akab vi sto facendo impazzire ragazzi devo vedere anche dall'altra parte meno male ragazzi che non mi ha colpito attenzione che arriva la cavalleria e qui ragazzi non la vedo brutta me la sto vedendo brutta ecco qua via guardate quel bastardo gli e che ne beccassi uno sono da solo contro tutti ecco per colpito no ecco qua ragazzi sono morto mi ha massacrato ok ragazzi eccoci qui col quarto round vi ricordo sempre 2 a 1 per loro dobbiamo pareggiare mi hanno subito bollato ora andiamo a fare un bel mother fuck mother fuck no di pochissimo non esplodere subito 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 dai 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 no di pochissimo vediamo un po' brutto bastardo eccolo qui no era dall'altra parte quel bastardo devo fare una cosa velocissima se mi ha sfiorato sto dicendo e togliti togliti ragazzi ma io la gente veramente non la capisco vediamo un po' se riesco no ragazzi manca poco non penso di farcela quindi non penso di riuscire a ucciderlo che manca troppo poco e qui devo ancora fare la salita no non ce la faccio ragazzi volevo provare l'ultima volta ma il tempo è scaduto ok vaffanculo niente da fare vediamo un po' se dovremmo avervi round vincitore infatti ok abbiamo vinto il round perché comunque loro hanno solo è avanzato solo uno eccoci qui ragazzi tornati con il quinto round dobbiamo cercare di vincere per portarci vantaggio è fondamentale andiamo andiamo spara spara dai che lo prendo di pochissimo vai che lo prendo tipo quanto non l'ho preso di pochissimo e guardate no non ti puoi mettere lì è veramente una squadra a livello no 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 sbagliato tasto ragazzi fail di nuovo ho sbagliato tasto e sono morto ed ecco qui ci giunti al sesto round andiamo subito a cercare di fare il tre pari e poi l'ultimo ragazzi sarà durissima ecco qua preso uno è morto scolpito uno mi hanno colpito brutti bastardi e non mi avrete mai vaffanculo no sono in tre ok sono in tre uh di quanto quindi vi do un consiglio non lasciate mai lo stesso insurgente per troppo tempo anche se non siete stati colpiti e avete fatto qualche incidente con i vostri compagni cambiatelo di tanto in tanto che qui vi danno comunque l'opportunità di cambiare macchina quello lì uno si sta spostando no non ce la faccio ragazzi non ce la faccio colpirli così no ma non si può cioè non si può ma non si può una volta che forse riuscivo a prenderlo quello mio compagno di squadra chiamiamolo in maniera gentile mi è venuto addosso round vincitore due pari ok tre pari ok ragazzi l'ultimo round sarà quello decisivo eccoci giunti ragazzi al settimo e ultimo round subito qui primo razzo nulla da fare sì ma non state al centro se non vi fate colpire facilmente cazzo spostatevi subito colpito uno con l'insurgente eccolo qua vediamo lì buti un bel razzetto no non colpiti pochissimo attenzione guardate quel bastardo guardate quel bastardo vediamo se lo colpisco non lo so ragazzi forse l'ho colpito vado a ricaricare perché ho bisogno di ricaricare ma perché spari anziché usare i razzi se sono stati creati ci sarà un motivo testa di minchia dai no mi ha quasi preso quello con la macchina blu non avrete così tanto facilmente la mia pelle la venderò cara attenzione vediamo vediamo colpito quasi attenzione colloco la macchina blu guardate che ha provato a colpirmi ma io ho capito le tue intenzioni molto molto tempo prima ecco qua vediamo no sbagliato di poco attenzione colloco la macchina bianca no 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 di quanto no no non ce la fai non ce la fai no 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 ragazzi non so che cosa sia successo ma non sono morto sono mi sa l'ultimo rimasto si non penso ragazzi di riuscircela a fare ecco qua sono morto la partita è perdente abbiamo perso per un solo round comunque in questo episodio ragazzi avete visto un po di tutto fail ho fatto qualche buona uccisione finale spero che vi sia piaciuto questo last team standing a me ha fatto molto divertire se è così fatemelo sapere lasciate un like condividete commentate e soprattutto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale qui da angelo nero 83 è tutto ci vediamo al prossimo video ragazzi bella